Un nuovo appuntamento con i venerdì di Giostra, abbiamo intanto il dovere di ringraziare Ambrosia Auto che ci ospita per questa puntata in esterna, cominciamo subito entrando nel vivo do il benvenuto agli ospiti che ci accompagneranno all'interno di questa puntata in questo primo blocco abbiamo il rettore del quartiere di Porta del Foro Roberto Felici che ringrazio per la disponibilità e do il ben ritrovato anche a Enrico Vedovini preparatore del quartiere Giallo Cremisi. Intanto Roberto ti porto indietro cronologicamente di alcuni mesi perché per quanto riguarda l'edizione, anzi le edizioni del 2024 ci sono diverse novità il vostro quartiere diciamo che ha in tema di novità alcuni aspetti da mettere in evidenza una di queste appunto è la presenza di Enrico Vedovini come preparatore tempo fa quando uscì la notizia proprio ai nostri microfoni dicesti di una trattativa lampo ti porto indietro insomma di alcuni mesi per capire come è nata questo rapporto Sì buonasera a tutti il rapporto è nato in maniera molto semplice perché probabilmente era il momento giusto per Enrico di ritornare in piazza grande per la giostra del Saraceno e noi in quel momento dopo le dimissioni di Enrico Giusti cercavamo una figura che potesse sostituirlo e potesse anche possibilmente migliorare il nostro ambiente quindi l'unico nome che è stato fatto subito è stato quello di Enrico ci siamo trovati nel giro di una mezz'ora ci siamo trovati d'accordo su tutto e quindi lì è iniziato il nostro percorso cioè noi non vedevamo altra strada che non fosse lui è stata l'unica scelta che ci siamo posti in questa fase di rinnovamento e penso che per lui la nostra chiamata sia stata un piacere perché non vedeva l'ora di ritornare nel mondo della giostra e allora lo interpelliamo subito Enrico intanto per chiedere una conferma se effettivamente è stata anche una bella opportunità per ritornare all'interno del mondo della giostra con un ruolo diverso e ti chiedo subito quali sono ovviamente le principali differenze come giostratore tu entri di diritto tra coloro che hanno scritto pagine veramente importanti della manifestazione con questo nuovo ruolo come cambia anche la prospettiva? Sicuramente la trattativa è stata veramente lampo perché io sono stato 30 anni in piazza grande ho provato a stare distante un anno, un anno e mezzo e non è facile viverla dal di fuori ancora mi sento che posso dare là dentro magari qualcosa del mio e con la chiamata di Roberto insomma le due cose si sono trovate veramente d'accordo e il ruolo, il ruolo è completamente diverso perché quando fai il giostratore bene o male, sì è vero che è una squadra però ti prepari per te, ti prepari il cavallo per te e qui invece è una cosa molto più ampia poi Porta del Foro magari era anche un po' indietro per quanto riguarda il reparto delle scuderie in poco tempo abbiamo messo in moto a 360 gradi quell'ambiente delle nostre scuderie e il ruolo è veramente diverso lì c'è da pensare ai ragazzi più giovani c'è da pensare a tutti i cavalli che hanno a disposizione a pensare ai titolari però non mi spaventa assolutamente il ruolo anche perché credo di potermi muovere abbastanza bene con la mia esperienza quello che ho cercato subito di portare fin dall'inizio è la serenità e la tranquillità perché quello che manca forse a quel quartiere negli ultimi anni o negli ultimi trascorsi credo che sia stata proprio quella non la qualità dei cavalli non la qualità dei giostratori ma proprio affrontare la giostra con una mentalità un po' diversa Ecco Roberto approfitto anche per domandare a te a proposito di clima all'interno del quartiere è indubbio che i mesi passati abbiano avuto insomma anche delle criticità dal punto di vista dei rapporti interni adesso ad oggi a diciamo alcune settimane di distanza dall'edizione di giugno come è la situazione e qual è l'atmosfera che si respira all'interno del quartiere Chiaramente in tutti i quartieri come in tutte le associazioni ci sono dei momenti in cui ci sono delle tensioni interne credo che sia normale a livello di associazione proprio si scontrano varie personalità che tutte hanno il diritto di esprimersi e di portare la loro opinione anche se contrastante con quella che viene fatta da parte della dirigenza Il clima al momento attuale è normale è sereno al punto giusto per poter arrivare ad affrontare la manifestazione è di grande lavoro di grandissimo lavoro perché abbiamo aperto il nostro campo prova con le scuderie due mesi fa quindi stiamo veramente lavorando in maniera enorme per capire come far funzionare un ambiente che fino a ieri non avevamo però crediamo fortemente che questo possa aiutare sia Enrico sia i nostri giostratori e tutto lo staff delle scuderie a semplificarsi un po' la vita perché fino a settembre dell'anno scorso i giostratori portavano ogni sera di allenamento i cavalli a Petrognano che è la sede del nostro campo con i van finito l'allenamento tornavano alle loro scuderie li dovevano sistemare quindi era un dispendio di tempo enorme quindi pensiamo che questa cosa ci tornerà sicuramente utile quindi siamo veramente tutti impegnati oltre che nelle attività canoniche del nostro quartiere anche a imparare a far funzionare un maneggio, una scuderia Vengo da te torno da te Enrico per sapere anche come hai impostato il lavoro in questi mesi invernali che sono quelli per chi ama la giostra in particolare più lunghi perché separano diciamo più nettamente dal momento principale che è quello del ritorno in Piazza Grande tu appunto hai detto la voglia anche di rimetterti in gioco all'interno della manifestazione ti eri reso ampiamente disponibile anche nel 2023 per provare la lizza come hai impostato il tuo lavoro a terra oppure anche provando i cavalli? Sicuramente io ho iniziato fin da subito a livello quasi conoscitivo nel senso di conoscere i giostratori che già li conoscevo abbastanza bene ma soprattutto conoscere bene i cavalli perché quello che ho fatto li ho montati un po' tutti a giro perché quando devi fare devi impostare un lavoro devi anche capire quello che ha bisogno il cavallo con quel tipo di giostratore lì e questa cosa qui è la cosa che ho fatto poi ci siamo messi lì sotto abbiamo lavorato tantissimo in piano abbiamo lavorato nella tranquillità anche dei cavalli stessi perché sono arrivato a Petrognano alle nostre scuderie che forse il fatto di non vincere il fatto di cercare per forza quel punteggio aveva portato un po' una esasperazione anche nell'uso di questi cavalli io avendolo fatto forse questa cosa qui mi sono reso conto subito che questa cosa mancava mancava la tranquillità nei giostratori ma soprattutto la tranquillità nei cavalli nel fare quei 48 metri e questo credo che lo porteremo avanti fino alla giostra di giugno perché i cavalli stanno dando delle risposte ottime i ragazzi sono molto tranquilli e un'altra cosa che ho puntato ho puntato nel fare squadra con i giostratori perché io ora ho un ruolo che posso fare fino a un certo punto la giostra è fatta dai giostratori non è fatta dagli allenatori a me la giostra degli allenatori non è che mi piaccia tanto non mi piaceva tanto quando ero giostratore e non mi piace neanche tanto ora che sono da quest'altra parte la figura dell'allenatore è la figura che deve dare una certa tranquillità serenità e anche l'input giusto per poter fare la giostra dopo la giostra la fanno i giostratori sono loro che devono mettere determinazione grinta e la capacità a proposito di giostratori hai parlato anche del rapporto insomma di conoscenza che è stato ulteriormente incrementato hai ritrovato Francesco Rossi sì con Francesco ci ho lavorato tanto a Sant'Andrea e non ho avuto modo di poter correre da titolare ora qui è in una veste titolare e tra riserve titolare cambia tanto cambia cioè lui è un ragazzo proprio quando si va a parlare di tranquillità forse è la persona che cioè più di tutti penso a lui perché ha delle capacità ha delle capacità di mira ha delle capacità di affrontare quei 48 metri che non è comune trovarlo su tutti però purtroppo ha questa cosa che non riesce a esprimersi il giorno della giostra e questo sarà uno dei miei impegni più grossi e uno dei miei stimoli anche più grossi che ho Roberto diciamo ne abbiamo discusso anche in altre occasioni ma incide tanto l'aspetto psicologico che anche Enrico ricordava perché il quartiere lavora tutto l'anno citavi tu prima anche il campo quindi un ulteriore elemento che va incontro al lavoro svolto il fatto che la vittoria comunque stenti ad arrivare incide poi anche da un punto di vista psicologico non soltanto in quella tranquillità venuta a meno in alcuni periodi ma anche probabilmente nel approccio mentale degli stessi giostratori sì è assolutamente così quando la vittoria non arriva con facilità come è successo per altri quartieri subentra proprio un carico psicologico enorme senti la pressione di tutte le persone che tutto l'anno lavorano e che ripongono in te giostratore tutte le loro speranze quel giorno quindi quel giorno devi essere sereno al 100% per fare quelle cose che servono per fare il punteggio perfetto nella giostra del Saraceno poi non ci dimentichiamo che c'è anche una componente fortuna che nella giostra del Saraceno è preponderante io mi sono divertito a calcolare il margine d'errore su un tiro sbagliato di mezzo centimetro calcolata la lunghezza della lancia sono 4 decimi di grado alla mano del giostratore quindi al galoppo in piazza grande il giorno della giostra 4 decimi di grado un tiro sbagliato è veramente pochissimo quindi devi essere perfetto in tutto quello che fai avere anche un pizzichino di fortuna quel giorno speriamo che finalmente la ruota agiri anche per porta del foro in maniera definitiva perché onestamente non ci manca niente non manca niente ai nostri giostratori non manca niente al nostro preparatore vorrei solo che l'ambiente vivesse questo percorso di avvicinamento in maniera serena cosa che forse è mancata l'anno scorso con Enrico Giusti che poi è stato forse il motivo che gli ha fatto dare le dimissioni perché non si sentiva sereno nel suo lavoro ecco l'augurio è che porta del foro viva serenamente questo avvicinamento per le giostre del 2024 approfitto abbiamo iniziato questo blocco di trasmissione parlando di novità in particolar modo legate al quartiere di Porta del Foro l'altra l'avremo ospite nella seconda parte con il capitano Diego Giusti approfitto per domandare ad entrambi una valutazione sulla giostra simulata che fu una delle novità invece introdotte lo scorso anno ecco dal tuo punto di vista Roberto ci fu occasione ovviamente di chiederti un'opinione in merito ti rifaccio la domanda per capire appunto se questo ulteriore momento di prova chiamiamolo così può essere utile o meno per appunto chi poi andrà insomma a sfidare il repurato dunque io parlo dal punto di vista di rettore di amministratore e anche diciamo di membro della consulta che è poi quella che ha deciso questo cambiamento di metodologia di prova in piazza grande dunque noi ci siamo arrivati insieme agli altri rettori e al sindaco e a tutto l'ufficio della giostra dopo un lungo percorso di proposte di analisi perché alla fine le prove come erano prima ai quartieri non dispiacevano nella maniera più assoluta però c'è stata tutta una diciamo così un orientamento da parte dell'opinione pubblica anche degli organi di stampa anche dalla stessa amministrazione che ci ha chiesto di rendere quei giorni di prova un pochino diversi più appassionanti anche per il pubblico e per gli organi di stampa appunto quindi siamo arrivati a questa stesura direi di aspettare ad esprimere un giudizio definitivo perché alla fine l'anno scorso abbiamo potuto farne realmente una sola perché a giugno il maltempo comunque aveva rovinato un po' tutta la settimana quindi secondo me una è ancora troppo poco una prova simulata sola e una settimana di prove sola è un po' troppo poco per poter esprimere un giudizio è stata una novità ci sono state delle cose buone delle altre un po' meno soprattutto per quello che riguarda i tempi però vediamo insomma facciamo queste due di quest'anno poi i prossimi mandati dei prossimi consigli insieme alla consulta si metteranno a tavolino e capiranno quali sono le cose da rivedere Vengo da te Enrico ti chiedo i tempi stringono di essere telegrafico sulla giostra simulata perché poi ho una domanda più di carattere personale che preferisco appunto inserire in questo primo blocco prego sicuramente è stata inserita per dare un po' più spettacolarità alle prove perché era quello che chiedeva un po' tutto il mondo della giostra non mi piacciono tantissimi cambiamenti ora è così e dobbiamo abituarsi così a discapito un po' dei cavalli giovani dei ragazzi più giovani da tirare avanti però fortunatamente tutti i quartieri hanno il loro campo prova e le prove si fanno a casa e così è e così dobbiamo abituarsi Vengo alla domanda di carattere personale un pensiero al prossimo 22 giugno con Enrico Vedovini che torna nuova veste in Piazza Grande ci hai già pensato il carico emotivo è importante? Sicuramente nel piatto della bilancia quando ho fatto questa scelta ho pensato anche a questo però non credo che per come sono fatto di carattere non mi possa coinvolgere più di tanto sarò concentrato nel lavoro che ho da fare e con i ragazzi sicuramente non voglio trasmettere se anche avessi un minimo di emozione o di o di patema ai miei due giostratori nel modo più assoluto Io vado a ringraziare per questa prima parte Roberto Felici rettore del quartiere di Porta del Foro Enrico Vedovini preparatore del quartiere Giallo Cremisi pochi istanti di pubblicità poi i venerdì di Giostra riprendono Riprendiamo i nostri venerdì di Giostra seconda parte della trasmissione abbiamo un ospite in più che vado subito ad introdurre a ringraziare per la disponibilità Diego Giusti capitano del quartiere di Porta del Foro insieme a lui ci siamo ritroviamo in questa seconda parte anche il rettore Roberto Felici e il preparatore Enrico Vedovini ma partirei proprio dal capitano una vita all'interno insomma del quartiere con questo nuovo ruolo qual è il sentimento che prevale emozione responsabilità timore descrivici ecco un po' qual è lo stato d'animo allora innanzitutto buonasera a tutti faccio complimenti a loro due che prima sono stati bravissimi quindi spero di essere bravissimo anche io ora qual è l'emozione che ho in questo momento se te la devo descrivere è quella della serenità quindi se ti devo dire mi aspettavo un giorno di diventare capitano e avere questo tipo di serenità che ho in questo momento avrei detto di no avrei detto più che avrei avuto ansia timore o altri tipi di sentimenti invece grazie anche alle persone che ho qui accanto a me e alla situazione che si è venuta a creare ai giostratori al consiglio direttivo e a tutto il quartiere sono sereno in questo momento e sono tra virgolette felice che ci stiamo avvicinando a grandi passi al 22 di giugno anzi alla settimana della giostra credo che sia una parola quella che ha scelto Diego Giusti fondamentale perché ritornava anche nella prima parte della nostra trasmissione chiedo brevemente se è possibile ripercorrere la tua storia all'interno del quartiere come nasce il tuo rapporto ti abbiamo conosciuto negli ultimi anni come maestro d'arme ma penso si possa andare ben dietro nel tempo direi sì che si può andare agli inizi degli anni 90 quando ancora ero ragazzino quindi sì una vita passata all'interno del quartiere una vita una vita che probabilmente mi ha tolto del tempo dalla mia vita privata ma mi ha dato talmente tanto che rifarei e ripercorrerei ogni singolo secondo di questa esperienza che ho vissuto e auguro a tanta gente che frequenta il quartiere di vivere le stesse tipi di emozioni e di e di e di storia all'interno del quartiere noi siamo lì da tanto tempo quelli lì che sono da tanto tempo devono essere anche ad esempio e di stimolo ai ragazzi giovani e ci stiamo impegnando al massimo anche per questo sì ho fatto il maestro d'armi in delle edizioni anche come si può dire complicate difficilotte insomma quindi l'esperienza non 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 manca però vediamo dai la settimana delle delle prove ti dirò meglio come riesco a vivere questo tipo di nuovo ruolo anzi questo nuovo ruolo assolutamente già facciamo diciamo un laccio un segno per tornare a parlare proprio in prossimità anche della giostra di questo argomento con Diego Giusti approfitto per domandarti e poi la stessa domanda la facciamo anche ad Enrico parlando di staff tecnico hai già accennato insomma del rapporto con i giostratori insieme ad Enrico che tipo di legame si è instaurato in questi primi mesi non lo so che tipo di legame si è instaurato io no io non posso non posso parlare io in questo in questo momento perché mi viene da ria dicono una cosa allora si è instaurato un rapporto diciamo freddo distaccato e dobbiamo crederci no domando di poca comunicazione fra di noi durante le giornate praticamente non ci sentiamo praticamente mai e viviamo insomma questo momento con un certo tipo di astio sono stato abbastanza bugiardo Enrico veniamo da te per una conferma insomma se è così questo rapporto allora che ti devo dire allora è completamente una bugia quella che ha detto ci sentiamo continuamente tutti i giorni per qualsiasi cosa anche perché è un percorso per lui la prima volta per me la prima volta l'unione fa la forza siccome ci stiamo veramente aiutando a vicenda e cercando di mettere nelle condizioni come ti dicevo prima i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per quello che gli manca per le persone che gli devono stare vicino e sai per quanto mi riguarda è anche abbastanza semplice consigliare lui su quello che ha bisogno un giostratore perché bene o male l'ho fatto per tanti anni però abbiamo anche tantissimo colloquio con i giostratori continuamente giornalmente perché ci vediamo tutti i giorni e questa cosa qui rende il tutto molto più semplice Roberto torno da te due prime volte ma due finte prime volte perché insomma l'esperienza in entrambi i casi anche se con ruoli diversi non manca no no assolutamente chiaramente quando ti raffronti per esempio con una persona come Enrico il curriculum parla da solo ma poi c'è anche il lato umano cioè oltre al curriculum c'è anche il lato umano lui poteva venire alle nostre scuderie sin dal primo giorno un po' con la puzza sotto il naso insomma lui ha vinto più lui che il quartiere di Porta del Foro insomma negli ultimi anni ha vinto talmente tanto ci ha purgato talmente tante volte che poteva venire e guardarci dall'alto verso un basso e invece no invece si è proposto si è posto subito in maniera veramente veramente modesta veramente alla mano e ci ha messo tutti a nostro agio e il rapporto che ho con Diego è un rapporto bellissimo siamo amici da anni quindi sono felice che provi questa esperienza di grande responsabilità certo ha un carico sulle spalle non piccolo però spero spero che veramente arrivi alla giostra nel modo giusto sono sicuro ecco non vi chiedo ovviamente nulla relativamente alla prossima giostra ma approfitto per chiedere sia a Diego che a Enrico se andando al settembre 2023 avrete sicuramente avuto modo insomma di analizzare un'edizione della giostra particolare dal punto di vista dei punteggi in generale perché ultimamente negli ultimi anni siamo tutti insomma stati abituati a punteggi molto alti vi chiedo se nell'analisi specifica delle due carriere di Davide e Francesco vi siete diciamo fatti una vostra opinione se ne avete parlato ovviamente sì insomma immagino allora ne abbiamo parlato nì nel senso che abbiamo cominciato un percorso nuovo abbiamo deciso di di voltare pagina visto nel quartiere quindi diciamo che ci siamo messi più a cercare di cominciare un nuovo percorso cercando di di voltare pagina e di non stare tanto a guardare quello che era stato successo precedentemente la giostra di settembre dell'anno passato io penso che sia di difficile decifrazione perché è stata un'edizione talmente tanto strana con dei punteggi talmente tanto bassi vedendo tutta la settimana delle prove che credo sia poco analizzabile ecco per essere sinceri quello che ha detto Roberto prima è la sacrosanta verità non ci siamo nemmeno messi ad analizzare quello che era successo ma ci siamo messi tutti insieme per cercare di lavorare per migliorare quello che dovevamo migliorare per cercare di migliorare i nostri aspetti i nostri momenti la nostra carriera il nostro lavoro e tutto il resto quello che è stato è stato il passato è passato noi siamo strafelici e stracontenti di avere i nostri giostratori ma non solo i titolari anche Niccolò Matteo Elia Edoardo stanno facendo un lavoro eccezionale di sacrificio anche loro hanno si sono messi completamente a disposizione di una persona che per noi è stata di una svolta importante questo è innegabile per tutto quindi siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto fino adesso ora aspettiamo speriamo di raccogliere i risultati di quello che abbiamo fatto fino ad oggi Enrico il capitano è stato direi chiarissimo diciamo potremmo sintetizzare non si guarda al passato ormai lo sguardo è rivolto al futuro insomma io come ho detto ai miei due giustratori sia Davide che Francesco ormai sono due giustratori esperti diciamo che Davide ne ha corse quante ne ha corse Davide mi sembra nove Francesco forse la metà siccome io non sono venuto a Porta del Foro solamente per far bene è quello che gli ho detto ragazzi noi bisogna subito mettere in tassello subito nella prima annata del mio arrivo questo sarebbe la cosa perfetta perché a questo quartiere manca proprio questa vittoria e credo proprio che non gli manchi assolutamente niente perché l'anno 2003 sia vero che a settembre hanno perso una giostra brutta però a giugno hanno battagliato una giostra insomma fino all'ultimo fino all'ultimo punteggio loro devono ripartire da quella giostra lì da quelle sensazioni lì e ai due ragazzi veramente non gli manca niente gli manca veramente di vincere una giostra e poi possono aprire anche un ciclo questi perché sono ragazzi giovani ragazzi che si impegnano tanto con degli ottimi cavalli sia titolari che di riserva siccome c'è tutto gli ingredienti per poter veramente far bene Roberto cambio argomento ma rimaniamo diciamo in un qualche modo sempre all'interno delle iniziative che riguardano se vogliamo anche la giostra perché il 2024 è anche l'anno vasariano una delle due dediche che è rivolta proprio ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e tra le iniziative organizzate promosse per l'anno vasariano ci sarà una mostra una delle tante sono tante iniziative che vedrà il ritorno della Chimera ad Arezzo un ritorno temporaneo ma visto che il vostro quartiere diciamo che ha un rapporto privilegiato con la Chimera chiedo una una tua opinione insomma su questo fatto che consentirà gli aretini di poter nuovamente ammirare da vicino questo bronzo sì la Chimera per Arezzo è un simbolo universale alla pari se non superiore a quello dello stemma del comune quello del cavallino e a maggior ragione per noi che lo portiamo nei nostri costumi è il nostro emblema siamo il quartiere della Chimera il fatto che ritorni l'originale ad Arezzo riveste ci fa assaporare una sensazione particolare nell'ultimo consiglio abbiamo deliberato di metterci a disposizione come quartiere dell'amministrazione comunale per accogliere il ritorno della Chimera ad Arezzo ci piacerebbe tantissimo con il nostro corteo di figuranti scortare la Chimera fino al luogo dove sarà esposta quindi ci piace tanto questa cosa lo facemmo l'ultima volta era rettore mio padre quando la Chimera venne ad Arezzo fu fatta una cosa analoga la vorremmo ripetere ci dà tanta soddisfazione il fatto che faccia parte dei festeggiamenti per l'anno vasariano è ancora più bello poi la casa di Giorgio Vasari è nel territorio del quartiere di Porta del Foro quindi ci sentiamo veramente legati a questo momento e a questa lancia d'oro approfitto poi vorrei sapere anche da ciascuno di voi un giudizio rapido diciamo sulle due dediche chiaramente noi partiamo sempre dal presupposto almeno questa è la frase tipica che ricorre ad ogni conferenza stampa di presentazione della lancia d'oro indipendentemente dalla dedica ciascun quartiere insomma la vorrebbe portare all'interno della propria rastrelliera due dediche diverse importanti ricordavamo quella per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari l'altra per l'ottavo centenario delle stimmate di San Francesco anzi partiamo proprio da qui poi avevo un'altra domanda sempre per Roberto ecco sulle due dediche che sono state scelte no belle sono due momenti significativi della vita del nostro territorio mi piacciono molto Giorgio Vasari si presenta da solo insomma è stato uno dei grandissimi del manierismo ha fatto la storia dell'arte nel nostro paese è universalmente riconosciuto come il primo storico dell'arte quindi non ha bisogno di nessuna presentazione spero che sia una lancia d'oro che gli faccia onore ma credo che il maestro Conti ci soddisferà in tutte e per tutto e l'altra è altrettanto bella perché rivela un momento importantissimo le stimmate di San Francesco il nostro territorio comunque legato col Santuario della Verna a San Francesco quindi sono veramente contento di queste due dediche ecco chiedo sempre rapidamente ad entrambi sia Diego che Enrico insomma un giudizio chiaramente qui siamo sì sempre in ambito giostresco ma è più forse anche di carattere personale insomma se queste due dediche vi hanno soddisfatto ecco allora certamente che ci hanno cioè personalmente mi hanno soddisfatto le dediche che sono state fatte quest'anno credo insomma che che la lancia che verrà verrà fatta a giugno dal maestro Conti abbia abbia un'importanza particolare visto che insomma riguarda il Vasari in Piazza Grande sono presenti le logge del Vasari quindi insomma credo che sia anche di una bellezza particolare insomma me la immagino diciamo così e per quanto riguarda le stimmate di San Francesco insomma anch'io la penso come Roberto è stato un personaggio che va anche al di là insomma della dimensione religiosa in sé per sé ecco e quindi cioè tutti noi conosciamo tutti noi siamo stati per lo meno una volta a Laverna a vedere dove andava San Francesco a pregare quindi credo che le dediche siano azzeccatissime in più voglio aggiungere che noi abbiamo un bellissimo stiamo finendo un bellissimo museo nuovo e credo che ci starebbero bene assolutamente Enrico vengo da te anche per questo tuo giudizio questa tua opinion sono sicuramente due dediche importanti a due personaggi a cui il nome di Arezzo è molto legato e anche turisti credo chi è che non conosca Laverna insomma Laverna è un luogo di pelliclinaggio da parte di tutto il mondo siccome due belle dediche Roberto l'ultima domanda cambio colori ma voglio sapere essendo tu rettore quest'anno diciamo tra le novità sarà anche la prima edizione con la giostra del Saracino senza Ezio Gori con tanti anni insomma in cui ha entrato diciamo di diritto all'interno insomma della manifestazione un giudizio non tanto ovviamente sul quartiere di Porta Santo Spirito ma sul ruolo che Ezio ha avuto per la giostra non mi permettere mai di giudicare o parlare di un altro quartiere con Ezio io ho avuto un bellissimo rapporto sin da subito lui e Maurizio Carboni erano quando sono entrato io e anche Andrea Fazzuoli erano quelli che noi guardavamo anche prima no? un punto di riferimento però si sono subito hanno subito messo noi a a nostro agio all'interno dei lavori della consulta quindi con Ezio ci siamo parlati dopo la sua decisione di rimettere il mandato al proprio consiglio mi ha detto che era sereno che questa decisione l'aveva ponderata tanto e un po' mi mancherà un po' mi mancherà tutti i gesti scaramantici che faceva nel pacchetto dei rettori perché lui è molto scaramantico però ecco sono sicuro che Giacomo Magi che conosco bene lo sostituirà degnamente però approfitto di questa domanda per salutare con tanto affetto Ezio perché è stato veramente uno dei più grandi se non il più grande rettore dal punto di vista delle vittorie che ci siamo è stato un piazza grande quindi sicuramente è un personaggio da ricordare con affetto anche dagli avversari e allora con queste parole di Roberto Felici noi concludiamo anche questa puntata dei venerdì di Giostra come li vedete inquadrati in ordine vado a ringraziare per l'appunto Roberto Felici il rettore del quartiere di Porta del Foro Diego Giusti capitano della Chimera ed Enrico Vedovini preparatore giallo Cremisi così abbiamo avuto anche i vari sinonimi per non ripetere Porta del Foro grazie a tutti voi per averci seguito appuntamento al prossimo venerdì Ciao 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 ciao